Open Day, scuola aperta, giornate dell'orientamento al liceo scientifico Corradino d'Ascanio di Montesilvano, dove quei ragazzi che si trovano a dover scegliere la scuola superiore possono toccare con mano le attività didattiche, soprattutto i laboratori punto di forza del liceo dedicato al noto genio abruzzese, inventore della Vespa e precursore dell'elicottero. Sono stati gli stessi studenti del D'Ascanio, assieme agli insegnanti, a fare da tutor a ragazzi e famiglie in visita nelle domeniche interessate. L'ultima ci sarà il prossimo, 27 gennaio, la preside Natalina Ciaccio. Il nostro presupposto da cui partiamo è un'attenzione particolare al ragazzo come persona. Noi prendiamo questi ragazzi che sono piccolissimi, hanno 14 anni, sono dei bambini e li portiamo fino a raggiungere la maggior età, quindi cittadini. Ci interessa osservarli subito da appena partono nel loro essere persona prima che alunno. Soltanto quando hai capito quelli che sono i talenti o le fragilità della persona puoi mettere in piedi un piano che riesca a portare quel ragazzo al traguardo, che è quello per noi qui nella nostra scuola di farne un cittadino europeo, ma io oggi direi del mondo, perché i nostri ragazzi oggi studiano nelle università americane, nelle università tedesche, quindi ormai la prospettiva nazionale si è dilatata. Il nostro obiettivo è quello di farne professionisti coscienti e consapevoli e soprattutto cittadini consapevoli. Attraverso quelli che sono i nostri indirizzi di studio, la disciplina è soltanto un metodo, è un mezzo, scusate. I nostri indirizzi sono l'indirizzo tradizionale, con un'attenzione al latino, pur se qui puntiamo molto sull'ambito scientifico. È il latino perché comunque aiuta i ragazzi a sviluppare quelle che sono le capacità logiche, oltre che a riflettere sul nostro essere stato. E qui torniamo al discorso dell'individuo come della persona. E l'ambito scientifico, tant'è vero che noi abbiamo anche il percorso delle scienze applicate, è legato al fatto che l'Italia è un po' ultimo e fa l'ineo di coda a livello europeo per quanto riguarda la matematica e le materie scientifiche. Quindi noi puntiamo a rafforzare quel percorso di studi attraverso un potenziamento dell'offerta formativa legata anche alla robotica, l'informatica. Siamo vincitori anche a livello nazionale, di gare nazionali scolastiche in questi percorsi di studi. Io ho puntato molto sull'innovazione, abbiamo dei laboratori all'avanguardia, abbiamo addirittura comperato l'anno scorso un braccio robotico per aiutare i ragazzi a studiare l'informatica attraverso una programmazione che sia reale e concreta, così come si vuole nell'ottica dell'alternanza scuola-lavoro, cioè partire dall'esperienza e dal mondo del lavoro per arrivare a riflettere nei banchi di scuola proprio su questa esperienza. Una scuola soprattutto del fare, quella che a mia piace, una scuola dove i ragazzi apprendono attraverso le esperienze e apprendono anche fuori dai banchi di scuola. Abbiamo parecchi laboratori e collaborazioni anche strette con le università, per esempio la facoltà di architettura, abbiamo un laboratorio pomeridiano, vaido per l'alternanza scuola-lavoro che si intitola, che si chiama Laboratorio Deidalo, il mestiere dell'architetto. I nostri ragazzi che hanno questa vocazione insieme con laureandi e professori della facoltà d'annunzio, dell'università d'annunzio, portano avanti un laboratorio di architettura, simulano un laboratorio di architettura. La stessa cosa con l'ospedale civile, la stessa cosa con altri enti del territorio. Sonia Di Prinzio, vicepreside del liceo scientifico da Scagno di Montesilvano. Come la scuola riesce a gestire l'alternanza scuola-lavoro? All'inizio, qualche anno fa, appena il progetto è stato pubblicato e voluto dal Ministero, questa scuola si è orientata verso la collaborazione con le aziende. Essendo questo un liceo, quindi non direttamente una scuola interessata al mondo del lavoro come proprio sbocco occupazionale, ma più che altro alla formazione e all'educazione, allora abbiamo sempre cercato di affiancare ad una realtà lavorativa, quindi l'esperienza in un'azienda, da un'esperienza formativa che per quanto riguarda noi è di tipo universitaria. Quindi accanto a laboratori, diciamo così, curriculari orientati alle scienze, all'informatica, ai linguaggi digitali, noi abbiamo inserito una conoscenza di quelle che sono le competenze trasversali che vengono richieste nel mondo del lavoro e quindi le competenze linguistiche, le competenze digitali, le competenze anche nel saper affrontare un compito e quindi le cosiddette capacità competenze relazionali che sono alla base insomma di qualsiasi tipo di educazione. E quindi nel tempo abbiamo avuto rapporti con aziende tipo per esempio la Fater, la De Cecco, Pastificio, la Parsec, eccetera, eccetera, e poi in contemporanea con le facoltà universitarie e quindi Economia e Commercio, le facoltà di Ingegneria di L'Aquila, di Matematica, la facoltà di Archeologia di Chieti, cercando di dare agli studenti un ventaglio di scelte, di opportunità. Questi sono gli ultimi giorni per orientarsi nella scelta della scuola superiore ed è molto importante perché ne va del futuro dei ragazzi. Siamo con la professoressa Rosina Vignale del liceo scientifico da Scagno di Montesilvano che si occupa proprio di orientamento. Certo, noi abbiamo cominciato da una domenica di dicembre e proseguiamo adesso a gennaio. Intentiamo appunto rendere un servizio ai ragazzi che si devono scrivere e quindi che devono decidere appunto del loro futuro. Quindi abbiamo realizzato tutta una serie di laboratori essi sono quelli di robotica, poi di chimica, di fisica, ma anche di latino. Sono impegnati molti i nostri ragazzi che fanno da tutor ai ragazzi più piccoli e con entusiasmo perché loro hanno già fatto questa scelta e chi meglio di loro quindi può aiutare i ragazzi che si devono ancora iscrivere. Oggi poi è una giornata particolare perché verranno presentati dei cortometraggi. Sì, certo. Noi abbiamo un progetto dedicato proprio all'accoglienza dei ragazzi del primo anno. Realizzano dei cortometraggi per, diciamo, conoscere più loro stessi e oggi vengono restituiti e i genitori di questi ragazzi possono vedere i lavori dei propri figli. Punto di forza del liceo d'Ascanio sono proprio i laboratori. Professoressa Angela Grossi, qui siamo nel laboratorio di scienze. Cosa fanno gli studenti? Allora, di scienze ha detto bene perché la nostra materia si divide in biologia, chimica e anche scienze della Terra. Ci sono i vari settori. I ragazzi fanno tutte le esperienze inerenti alla chimica maggiormente. Però anche di biologia abbiamo tanti microscopi. Abbiamo anche il microscopio con il video di modo che si può proiettare e tutti possono vedere. E anche abbiamo una bella sezione di rocce di scienze della Terra. Però il nostro forte è soprattutto la chimica. Voi che state facendo in particolare? Allora, noi stiamo elaborando la pila Danil. Una pila che viene utilizzata per produrre una differenza di potenziale. Il meccanismo dietro il quale possiamo utilizzare tutti quanti i nostri strumenti digitali è non. Allora, io sto facendo una soluzione, sempre per fare la pila Danil. Sto facendo il solfato di rame e qui abbiamo già fatto il solfato di zinco. E niente, queste due soluzioni serviranno per far vedere come cambia la differenza di potenziale. Siamo nel laboratorio di fisica di liceo scientifico da Scagno. Ti chiedo, questo aggeggio, nella mia ignoranza, cos'è? Questa si chiama macchina di Wimpshurst ed è un macchinario che serve per generare una differenza di potenziale, quindi dell'elettricità, nella stessa maniera con cui la si crea magari con una penna BIC strofinata sul maglioncino. In questo caso, ad esempio, abbiamo che il nostro maglioncino sono i materiali porosi che ci sono sulle ruote, mentre la penna sarà rappresentata da questi fili metallici che sfregando lungo la superficie genereranno un movimento di cariche che saranno raccolte dal macchinario all'interno di questi due condensatori dalle punte presenti sulle braccia, perché le punte per loro natura hanno la caratteristica di attirare le cariche elettriche. Quando noi andiamo a farlo sfregare, le cariche si divideranno automaticamente tra quelle positive e quelle negative nelle due estremità del macchinario e si determinerà quindi una differenza di potenziale simile a quella che c'è in cielo durante i temporali, dove in cielo ci sono delle cariche, a terra cariche di segno opposto, e una volta raggiunta una certa soglia, di queste cariche otterremo un fulmine. Docente di matematica e fisica, il professor Lenaz, Cristian Lenaz, parliamo di questo robot avveniristico che avete, come dire, qui a disposizione in quest'aula detta PON, ma in che cosa consiste? PON perché questo è un finanziamento piani obiettivo nazionali, quindi un finanziamento europeo, la nostra scuola ha partecipato e abbiamo vinto, quindi ci siamo aggiudicati questo robot antropomorfo NAO, il quale ha 25 gradi di libertà, cioè motori, e consente di riprodurre in modo abbastanza fedele, per essere un dispositivo didattico, i movimenti del corpo umano. Abbiamo allestito un laboratorio pomeridiano per ragazzi del triennio che si sono cimentati nella programmazione, naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare, e come vedete anche oggi li vedete all'opera nella programmazione, con questo linguaggio ad oggetti, abbastanza simile a quelli utilizzati poi anche in ambito industriale, quindi un'esperienza sicuramente formativa e spendibile. Annalisa Di Bartolomeo, docente di informatica, qui abbiamo un altro tipo di robotica, di progetto di robotica, di cosa si tratta? Sì, allora qui abbiamo un robot che è EV3 della Lego, è un robot che i ragazzi imparano a programmare nel primo bienio di questo liceo, è un laboratorio molto sperimentale, molto legato alle competenze, in quanto fondamentalmente si tratta sia di costruirlo il robot, attraverso dei pezzettini, dopo lo possiamo vedere che sono quelli della Lego, quindi come costruivano i loro giocattoli da piccoli, e poi c'è la parte della programmazione del robot, e infine tutto questo si conclude attraverso la partecipazione a una competizione, sia a livello prima territoriale, poi a livello nazionale, se riescono a superare la fase territoriale, in cui il robot deve inseguire una linea nera, infatti è la problematica del line follower, e superare degli ostacoli. Si parla di questo braccio molto particolare? Certo, una novità che abbiamo introdotto da quest'anno, abbiamo avuto la possibilità di farlo attraverso i fondi PON, quindi dei fondi strutturali europei, è la possibilità di certificare i ragazzi sul patentino della robotica, cioè prendere una certificazione legata a questo braccio che abbiamo qui dietro, che è un braccio molto simile a un braccio industriale, quindi loro hanno la possibilità di imparare a progettare un braccio robotico come se fossero in un'azienda. Beh, diciamo che il liceo di Corradino da Scagno, che la dice lunga, insomma, sul nostro Corradino da Scagno, è un liceo olimpionico, perché avete vinto diverse olimpiadi. Certo, nelle olimpiadi dell'informatica, che insomma io seguo direttamente come docente di informatica, abbiamo un campione che si è qualificato unico in Abruzzo a livello nazionale nelle olimpiadi dell'informatica. Non solo informatica, ma anche altre materie. Io parlavo dell'informatica perché è la mia disciplina, però qui abbiamo olimpiadi, ovviamente riusciamo a seguire olimpiadi di tutti i tipi, da matematica, fisica, scienze, ci sono anche le olimpiadi del certamen, quindi per quanto riguarda anche competenze che sono al di là di quelle, diciamo, scientifiche o digitali, ma anche legate alla letteratura, come c'è anche la possibilità di partecipare alle olimpiadi del problem solving, che sono un'altra olimpiade che si può conseguire. Siamo con Mauria Paolucci e Maura Disidoro, che sono docenti di lettere. E qui siamo nel laboratorio di latino. In cosa consiste questo laboratorio? Allora, il laboratorio è stato preparato da alcune classi del nuovo ordinamento, classi del triennio, e mira a sfatare la paura del latino. Mira anche a dimostrare concretamente, appunto con alcune slide che sono frutto del nostro lavoro svolto in classe, che il latino non è assolutamente lingua morta. Infatti ecco, le ragazze che sono dietro di noi hanno appena illustrato ai genitori che il latino vive, vive nel nostro bagaglio culturale, vive nel nostro bagaglio linguistico e vive nei nostri valori. Esatto, noi abbiamo puntato soprattutto su questo, cioè sul ricordare come l'italiano è diretta discendente del latino e quindi non possiamo utilizzare con consapevolezza la nostra lingua se non conosciamo per bene l'etimologia dei termini. E soprattutto abbiamo puntato la nostra attenzione sul saper essere. Oggi si parla sempre molto del saper fare, di quanto è importante saper fare, ma il latino ci aiuta soprattutto a ricordarci che è importante prima di tutto saper essere, perché prima di diventare dei bravi matematici dobbiamo essere dei bravi uomini e delle brave donne. Let's come together, right now, oh yeah.